bella a tutti i ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su un nuovo gioco portato sul canale insieme a dintim 17 like e vi porterò il grande speciale che state attendendo 105 iscritti ragazzi non potete capire l'emozione che sto avendo ora e iniziamo subito porca la bottini e allora ragazzi benvenuti in questa mappa anche se la conoscerete molto bene allora qui quattro fattori off la flash factory nella flash factory e amata già passiamo sopra fate come volete in input vai allora dintino ha detto che forte la tende gli piaccia tanto però siccome io registro si gioca volentieramente volentieramente volentieri si vabbè sti cazzo io sto in mezzo al fiume sopra sotto il ponte e spero che mi sto avvicinando allora c'è allora ecco non fa molta raga porca la puttana buga questo sarà il primo video dell'anno primo video dell'anno quindi auguri mi hanno sparato voglio mi hanno sparato visto lo sparo avvenire io vado un po a lutare qui dentro a vedo un po che ci sta ho trovato le munizioni per il razzo cioè ho rotto un muro quando ci sopra la porta bello quale buco quale buco ora da vi dico se mi trovo se trovo la pistola silenziata vi dico se trovo la pistola silenziata ma non mi ammazzo no scherzo viola o verde blu io sto andando a tutto lì che se vi interessa adesso io voglio video video ma vi state rendendo conto che la la tempesta di si fermerà proprio ai piedi no non ci provate non lasciate da solo perché io da solo non so acqua ci sono bella una bella casetta ma una bella casetta chi vuole una revolver c'è una pistola vai 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 io sto andando all'utlique raga che è cazzo poi che con le coordinate con dimmi le coordinate ma poi io vado all'utlique vada un po formare porterò il secondo episodio il insieme a riccardo d'intino però stavolta non so vabbè secondo episodio si però non solo su fortnite ma pure su oh guarda che ho trovato ho trovato c'è il drop davanti a me palloncino rosso e quello è l'utlique sono i io sto andando all drop ma tu che valore se vai ma dove stai? a dove stanno sti stronzi? a dove stanno sti stronzi? ehm io me lo devo capire raga consigliatemi qui sotto solo un consiglio per favore come registrare con la voce degli altri perché io me sto a perdere la pazienza che voglio farvi sentire pure la voce e chiama oltato l'ho aggiungato fucile d'assalto leggendario no che cazzo sta a fare si lo sta a perdere dai siamo 22 oh dobbiamo arrivare almeno oh cazzo oh ma è lui porca la puttana ha fatto io un colpo dinti rientra dinti entra in safe dinti entra in safe lo sai che ti sta da poco viene la tempesta da te e muori sei morto dinti eh troppo troppo veloce la safe vediamo un po' col cecchino qui sopra sono cecchino e belle belle dinti ho visto qualcuno porca la puttana c'è qualcosa che esplodeva ma è safe porca la puttana dinti io sono proprio al bordo della safe basta ancora alargarsi oh che cazzo ho visto ma che ma cosa che cosa era no mi sono sparata ma che c'è no no oh vieni a cura 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 cioè no lo sa di non più vai vieni 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 mi metto questo mi pare mettimi a riparo ci riparo curami 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 no vieni a arrivati noni ottavi ottimo raga vabbò bella raga questo è tutto posizionati ottavi noni quelle che cazzo è e quelle che cazzo è e settimi ok sesti ci sono arrivati i sesti settima posizione sesta posizione e questo è tutto bella voglio lasciate like iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video dai ciao ciao Grazie a tutti